Chi ha i conti con l'Unicredit, con Montepaschi di Siena e banche collaterali si prepari a ritirare i conti per piacere se non fanno quello che la giustizia ha stabilito. Ha la notizia che il governo ha riconvocato quel tavolo, l'ha riconvocato e noi tutti vigileremo perché questo avvenga, io vi chiedo, non ho titolo se non l'affetto e l'amicizia, sospendete lo sciopero, si attende per piacere che quel tavolo dite le risposte, se non ne darà concretamente io, lui, tutti noi, tutta libera, che sono 1600 associazioni, vi garantisco, faremo insieme a voi lo sciopero della parte. Se non si va alla concretizzazione, noi chiederemo ufficialmente ai cittadini onesti di togliere i conti bancari da quelle banche, se sono onesti devono togliere i conti bancari, non possono tenerli lì, non devono tenerli lì, perché se queste banche non fanno quello che devono fare, ci saranno degli italiani che coglieranno il segnale per non lasciarli soli, perché si allarghi il numero di cittadini italiani che dicono da che parte stare, per sottolineare la forza di questo segno concreto, ma chiediamo anche che si ritirino i conti per piacere da queste banche. Ci sarà della gente pulita che dice faccio anch'io un gesto, faccio anch'io un segno. Ritiriamo i conti, dobbiamo ritirare i conti da quelle banche che rubano, che assassinano l'economia, perché questo vuol dire assassinare il lavoro, la dignità delle persone. No, è un bisogno di verità e di giustizia, è in gioco la vostra dignità, ma di altre migliaia di persone. Non possono essere loro la forza di un potere, il potere deve essere un servizio. C'è una giustizia che ha decretato che tutto quello che è stato fatto era illegale, c'era una violenza, c'è commesso un crimine e allora se c'è questa giustizia noi chiediamo conto e chiediamo conto se non fanno ritirando i conti. È questo che possiamo fare, nel modo non violento.